Nel frattempo si sono aperte le gabbie, partiti, cavalli della seconda corsa del pomeriggio, pronti via, subito Born in Ireland, prende l'iniziativa l'ultima volta vincitrice per dispersione, proprio su un contesto similare con meno qualità di quest'oggi. La seconda posizione in questo momento è occupata da Yellow Red Dream, poi troviamo River Spirit, all'interno è il debuttante che si chiama Pacioccone, ancora al suo esterno The Grower, poi la grigia con la giubba rossa e maleducata, alle cui spalle galoppano Brenno di dentro, poi Mr. Janky di fuori, la penultima posizione è occupata da Non Mollo e in coda a tutti Kami Magic. Affrontata la prima piegata con una certa decisione da parte di Born in Ireland, che ha speso tantissimo per accumulare una cosa come 7-8 lunghezze di vantaggio rispetto al primo degli inseguitori, che in questa fase è Yellow Red Dream, poi in terza posizione scorgiamo la figura di River Spirit, in quarta all'interno Pacioccone, poi il mantello grigio è quello di The Grower, che all'esterno è maleducata, ed ancora Mr. Janky, poi, chiamato a maggiore impegno, anche Brenno, che si lascia alle spalle, Non Mollo, ed ancora Kami Magic. Siamo così, velocemente, alla tre quarti della piegata opposta, sempre Born in Ireland, a vantaggio, cercando di metterla un po' sul ritmo, un po' sulla selezione, ma praticamente è stata raggiunta da quasi tutti gli avversari, si avvicina tra i cavalli River Spirit, in terza posizione, ma all'interno è stabile anche Yellow Red Dream, ancora maleducata all'esterno di tutti, all'interno c'è Pacioccone, poi Mr. Janky, ancora Non Mollo, The Grower e Kami Magic. Si va così ad affrontare l'ultima parte della curva, sempre Born in Ireland, che per ora ha respinto tutti gli attacchi, non quello di River Spirit, che, con in sella Dario Vargiù, si guarda alle spalle, cercando il primo degli inseguitori, che è Yellow Red Dream, il quale prova ad andare allo steccato opposto, sottofrusta tutti gli altri, ma alla fine c'è stata un'andatura veramente molto svelta, quasi infernale, con River Spirit allo steccato opposto, ancora davanti, nei confronti Yellow Red Dream, tenta la rincorsa, Non Mollo, gli altri ancora più lontano, ma nel tratto conclusivo, a 200 metri al traguardo, la pratica è già esaurita, perché River Spirit va in continua percussione, viene a vincere piuttosto facilmente nei confronti Yellow Red Dream e Non Mollo, facile alla meta, River Spirit, dunque, che regala a Dario Vargiù la prima vittoria di questa giornata, sella la femmina, presentata da Alduino e Stefano Botti, vince la figlia di Arcano, terza affermazione in carriera, onorando al meglio il ruolo di favorita, 3 e 25 la quota definitiva, concorsa che ha vissuto di un ritmo esagerato, soprattutto nella prima parte, vince River Spirit numero 8 nei confronti del 10, Yellow Red Dream, e poi per il terzo numero 6, Non Mollo, da Capannelle, per la seconda è tutto su queste immagini, con Dario Vargiù, che nel tratto conclusivo controlla la situazione sul maxischermo, nessuno all'orizzonte, e allora, con tranquillità, verso il traguardo, è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.